E' dunque un'opera nel senso che è stato il primo lungometraggio, è un film che è stato attaccato a due registi, Bernancio e Ferra appunto che è qui presente e Valéry Mraillet. Tu ieri quando hai presentato il film hai detto che questo film vorrebbe essere la costruzione di un ritratto, come se fosse di un ritratto fotografico. Mi puoi resumere il film in dicendo che è l'istoria di un portretto, cioè l'istoria di qualcuno che passa dal paese al viso. Digitare in francese come appunto anche un po' in italiano vuol dire toccare, usare le dita. Mentre appunto c'è per usare le dita, conoscere, c'è invece l'analogico che crea della distanza tra i personaggi. Non, ce n'est pas seulement la difficoltà di comunicare, un po', ma non solo. D'ailleurs, io credo che il problema di Antonioni, non è solo la difficoltà di comunicare. Ci comunicano comunque molto, io credo, che Antonioni. C'è anche perché il film, il film è tecnico presente in ville. Il film è un film a produzione estone, è un film girato in Estonia. È una storia molto particolare perché parla di una spazzacamino donna, l'unica spazzacamino donna in Estonia. È un documentario molto interessante perché attraverso la storia di questo spazzacamino viene narrato un po' tutta la comunità che gli sta attorno. Quindi è quello spazzacamino esatto, aiuta a mantenere pulito l'aria che poi viene a respire. Io non ho molto più a parlare, ma c'è quella che dopo aver l'intera di l'arrivo, è un film che abbiamo prima e costruzione e seconda e costruzione. E' un problema che tu puoi vedere la differenza, è che i secondi e costruzione, che non hanno cambiato il loro che, Quindi con Francesco è anche possibile vedere che una delle sue caratteristiche era missing. Quindi certamente lui non guarda al benessere materiale della persona perché questo Francesco, pur essendo di seconda categoria, era una ragazza molto ricca dentro. Ci sono i fatti colla che sono da un punto di vista di rappresentazione più sperimentale. Personalmente credo che la rappresentazione, quindi partire da adesso a rappresentare un tipo di realtà che è legata alla rappresentazione dell'Ottocento non sia statica comunque, sia comunque una reinterpretazione, una riattualizzazione di un tipo di rappresentazione legato a quel periodo, però che non lo considero fermo, anche perché comunque chi usufruisce di questo tipo di spettacolo e comunque vive in un contesto totalmente diverso rispetto a quello che era nell'Ottocento quando è nato. In realtà, allora, Eugenio Monticolla che è il regista, ci ha accolto diciamo molto favorevolmente, tanto che Pietro che è uno degli altri tre registi e adesso tuttora fa il mare artista per loro. e vediamo appuntamento domani qui alle ore 19. Grazie mille, online non niveloo basso. Grazie a tutti. Grazie mille, tree e记so. Grazie a tutti. Grazie a tutti.